Cari amici a 5 Stelle, dal confronto televisivo dell'altra sera credo che abbiate capito quali sono le forze in campo. Gli altri spendono 700-800 mila euro, noi abbiamo speso meno di 10 mila euro e ne siamo fieri. Questo è il nostro modo di fare politica, con pochi soldi, con tanto entusiasmo, con la nostra trasparenza. Stiamo provando a vincere contro queste corazzate. Il 24 maggio Beppe scenderà a Roma, dobbiamo pagare il palco, dobbiamo pagare la spesa di pulizia della piazza. Finora abbiamo fatto con i nostri contributi, con i contributi dei candidati, con i contributi e le donazioni delle persone. Vi chiedo di aiutarci per affrontare questa sfida. Noi ci crediamo, proviamo a vincere. Ciao a tutti. Ciao a tutti.